vai a tutti ragazzi oggi faremo un video di raccolta di funghi quindi andiamo a cercare ragazzi siamo andando da funghi in diretta vi rendete conto? questi qua non sono funghi buoni guardate se li schiacciano questi se li schiacciano si vede già che non sono buoni vedete? si vedete qua dentro vedete? no no che marciume non lo sapevi già come facevi a sapere questa cosa? c'è tanta esperienza io ce ne ho visti oh per funghi bisogna averci l'occhio perché lui in un attimo capisce no che hai trovato ma questi sono buoni? non lo so vedete hanno un colore brutto faccelo vedere da vicino uno di questi funghi che brutto colore no mi sa che questi qua sono buoni ti sa ti sa secondo me questi sono cattivi guarda che strana cosa che c'hanno ma non me l'hai raccontato però l'ho visto mi ha detto non mi ricordo se mi ha detto no quella cosa oh sembra di metallo guarda questo è il cascio di nucleari guardate che strana effetto metalloso guardate non si riesce a capire bene in video che sono metallosi proprio sembrano di metallo guarda questo che è sbucato dalla terra così madonna figo figata eh questo qua è super mega duro è tosto? ammazzalo ammazzalo faccio vedere oh che c'è qua? oddio l'è tosto senti? ragà ve lo garantisco è tostissimo non ci mette le mani in bocca potrebbe essere venuto no 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 infatti no allora potremmo trovare delle palombelle come si chiama sanghette vabbè non importa il nome andiamo a cercare andiamo un giro per il giardino non si sa mai guarda guarda qua oh 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 è questo qua guardate ah ha visto uscite tutte cose tutte cose nere solo le spore dove sono le spore? saranno velenote le spore? però no si fanno velenote vai avanti cerca funghi Alessà cerca ci vuole tante esperienze per trovarli però vanno soprattutto schifo le spore oh fai vedere se piante se piante è vero quella che l'hai rimediata te Alessà? l'avevo rimediati due e dopo sono andate tante guardate che figa se piante acquatiche eh noi ce lo andiamo a vedere là che ce ne sono tante andiamo a funghi dai vai in giro per il giardino cerca i funghi vai allora vediamo un po' cerca i funghi cerca i funghi oh quello che è quello che è quello che è bello questo è buono soprattutto questa qua è una palombella bianca bella facciola vedere facciamola vedere gli amici avete mai visto quella palombella ragazzi? papà può toccare dappiare un secchiello eh? eh toccare dappiare un secchiello ci fanno una bella maniera guarda pure qua ci stanno queste piante guarda pure qua sono cresciute eh pure qua abbiamo messo poche poi dopo sono diventate tante rasole sono diventate tantissime pure l'angoletto volete vedere ve le faccio vedere oddio oh un fungo questo qua è una palombella solo marcia palombella marcia? eh andiamo a vedere quelle altre piante deve essere buona eccole vedete qui all'angoletto? fa cresciute guardate piano piano prenderanno tutta la fontana tra poco non continuano a crescere ragazzi vedete là? vuole guardare quanti piante ci stanno e altri funghi che occhio che c'hai ma hai un'occhio micidiale? eh eh per essere l'acquettore di funghi è nato dammi giro a cercare a funghi no 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 eh 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 no no Alessandra ma tu c'hai l'occhio? come fai a vedere ste cose? si è allenato parecchio riempi sempre i capanni quando vai a funghi come fai ma guarda pure questo è buono non ti sfuggono quelli piccoli figure di quelli grossi però non è bello però l'hai visto l'hai visto era piccolo è buono però tocca prendere quelli labelli così tipo si possono più gustare capito andiamo a funghi vediamo se trovi qualche altra cosa guarda quanti li ho trovati qua eccolo uno eccolo qua un altro eccolo uno questo qua è cattivo questo qua è cattivo c'è anche assorta c'è anche assorta trovato invece ci dovrebbero stare tu guarda la io guardo da questa parte ok ok a me non trovo niente mai guarda che ha trovato colpo di scena questo è bello pure tosto guarda qua sotto non importa se tagliano questi così con cortella l'estate non ci ricrescono più in giardino parte ci crescono sempre un sacco vabbè tanto li lasciamo lì lascialo lì lascialo lì l'estate così almeno crea tutta la famiglia tra un settimana ce li troviamo tanti no vabbè 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 allora l'altro adesso qua l'altro ma come fai a trovare i funghi un secondo lo trovi quale è il tuo segreto il segreto è cattivo vedete bene tucca tucca proprio da una bella sbricciata agli occhi le vedi ma quasi dovrebbero stare perché ci sono già passato ieri ci stavano un po di funghi li volevo lasciarmi qui ho messo questi da questi ahí la famigliola non le sfacciare è altro funghi trovato è bruttissimo guardate qua ... è anche buo è brutto va bene chiedi se ti mettono un po lo questo mettete anche il funghi che è buo Zo continuando anche il video questo è un bel video sta bene, un sacco di funghi sono a trovare guardate questo che ha trovato che schifo, è marcito quello però intanto non passa poco che ne ritrovi in altro fungo adesso ha bisogno di funghi buoni nel giardino eccolo qua, questo qua è tutto mozzicato si, se le sanno mangiate le macchie i topi, oppure i topi oppure i topi, però ho campato guarda lì, l'ho visto io un fungo bravo ho trovato una bella palombella scusa se torna rotta però non è tanto rotta oh, qua sotto che c'è? ho trovato una palombella, solo che l'ho rotta però pure qua c'è un'altra palombella guarda il suo giardino è piccolo ma è pieno di funghi non è piccolo non è piccolo però è pieno di funghi non è piccolo e quelli l'hanno che non sono piccoli non è facile vederli soprattutto si, si, no il fungo non è piccolo dei giardini è piccolino dai soprattutto qua ce ne stanno tanti per questo volevo fare il video perché ce ne stanno tanti per capire il giardino però eh si perché chissà se ci stanno in mezzo a tutte le cose vedere là, là il segno buono un attimo sta qua, sta qua eh l'ho già visto uno là comunque l'ho già visto uno eccolo lo vediamo anche l'altro guardate qui ce ne stanno altri tra palombella e qui un'altra dove vai a cercare? funghi pure là dentro? no quindi guardate pure qui in questa fontana sono cresciute sempre erano solo due eh poi sono diventati tanti ma li mettiamo i funghi poi? sto cercando di un cestino vabbè lo stanno bene che prendo? no dai vieni qua dai Alessandra dai tanto non li mangiamo sono troppo pochi per mangiare vieni cerca ancora vabbè tanto un attimo qua sopra qua si stanno qua si stanno in bordo va bene dai Alessandra chiedi se ti mettono pollici in su dai no devo non mi dire con noi mi sono affezionato mi sono affezionato i nostri amici che ci seguono nei nostri video guardate là guardate qua castagna che motivo ha castagna qua se non c'abbiamo neanche un castagno va bene ciao 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 ragazzi ciao